Un investimento di oltre 140 milioni di euro interesserà la statale Bifernina e quanto prevede il programma messo a punto dall'ANAS al fine di aumentare comfort e sicurezza dei viadotti Molise 1 e Molise 2 che poggiano sull'invaso artificiale della diga del Liscione lungo il territorio di Guardia Alfiera. L'investimento più consistente interesserà il primo viadotto dove sono in corso ben due interventi per un costo totale lordo di circa 100 milioni di euro. I lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza statica e all'adeguamento delle barriere di sicurezza oltre che al miglioramento sismico dell'opera. Gli interventi fanno sapere dall'ANAS saranno realizzati mantenendo in esercizio il viadotto senza prevederne la chiusura per tutta la durata. Per quanto riguarda invece il viadotto Molise 2 su di cui è previsto un investimento di circa 41 milioni di euro sono in programma lavori principalmente di manutenzione per l'adeguamento sismico e la sostituzione delle barriere di sicurezza. Dall'ANAS fanno inoltre sapere che dal 15 luglio al 15 settembre le lavorazioni sul viadotto Molise 1 saranno sospese mentre sul secondo sono in fase di esecuzione i lavori di ripristino della viabilità alternativa che verranno ultimati entro giugno prossimo. Anche se non si esclude più di qualche problema alla viabilità soprattutto con l'avvicinarsi della stagione estiva.